Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò sopra una regina a te mi affido affinché guidi i miei passi, nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio. Mamma Santa, te mi affido perché durante questa meditazione ti mi faccio comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fruttus ventris tu Iesus, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatorius, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Dal Libro di Cielo, volume 31, 22 gennaio 1933, come Gesù non vuole fare i conti con la creatura. Il giardiniere celeste, la volontà umana, campo di Gesù, dote e corredo che Dio dà alla creatura. Stavo pensando al volere divino e mille pensieri si affollavano nella mia mente e dicevo tra me ma perché Gesù ama tanto di volere la mia volontà? Se ama di darmi la sua io vado in guadagno. Avere una volontà divina è il mio potere. posseggo tutto, racchiudo tutto anche lo stesso Dio ma volere a lui la mia niente meno per scambio della sua, c'è più da stupire ma che cosa gli potrà giocare essergli di utile una volontà così debole e insignificante che sa produrre più male che bene? Ah, si vede che Gesù non se ne intende di conti né sa dare o meglio non vuol dare il giusto lavoro il giusto valore a quello che dà al ricambio che riceve purché ottenga il suo intento non ci bada se ottiene poco o nulla al confronto del molto che ha dato però qui si vede che l'amore suo è vero amore perché è disinteressato ma mentre la mia mente spropositava il mio dolcissimo Gesù si faceva vedere che stava tutto attento ad ascoltare i miei propositi e tutto compiacendosi mi ha detto la figlia mia benedetta se volessi fare i conti alla creatura non avrei mai nulla da dare perché prima che ciò che essa mi può dare tutto è stato dato da me ed è stato dato a lei da me e quindi dandomi non mi dà altro che il mio e perciò il mio amore mi fa mettere sempre da parte i conti fare i conti con le creature sarebbe inceppare il mio amore e fargli perdere la libertà di fargli dare ciò che vuol dare alla creatura e si troverebbe a disagio oltre a ciò per darti la mia divina volontà è necessario che tu dia la tua ah perché due volontà non possono regnare dentro un cuore si farebbero guerra a vicenda e la tua sarebbe d'ostacolo alla mia e quindi la mia non sarebbe libera di fare ciò che vuole ed io per rendere libera la mia con tante insistenze ti chiedo la tua ma ciò non è tutto ancora tu devi sapere che la tua volontà stando in te è debole insignificante ma come giunge nelle mie mani creatrice e trasformatrici cambia aspetto io la rendo potente la vivifico e racchiudo in essa il valore produttore del bene ed io me ne servo per non stare nozzi e facendomi celeste giardiniere lavoro in questo campo della tua volontà e ne faccio un bel prato fiorito ed un giardino di mie delizie sicché ciò che ha nelle tue mani è insignificante forse anche dannoso nelle mie cambia natura e mi serve per divertirmi e tenere un po' di terra a mia disposizione per formare le più belle fioriture e poi per poter dare io voglio il piccolo il significante anche come pretesto per poter dare il grande e così dire mi ha dato e ho dato è vero che mi ha dato il piccolo ma quello teneva espogliandosi anche del piccolo per me è il dono più grande ed affidando il piccolo all'esuberanza del mio amore supplisco a ciò che manca alla creatura dopo di ciò continuavo a pensare alla divina volontà e mentre cercavo di seguire i suoi atti il mio amato Gesù mi ha detto figlia mia benedetta tu devi sapere che come tu cerchi di seguire gli atti della mia divina volontà tu mi metti in via di essa ed il mio Fiat ti viene incontro per riceverti per porgerti i suoi atti affinché li faccia uno con i tuoi ed io ricevo le dolci sorprese delle tue attenzioni l'incanto del tuo amore ed io non ti perdo mai di vista ed assisto alle scene più commoventi del tuo nulla nel tutto del tuo piccolo essere nel grande del finito nell'infinito per non alternarsi a vicenda tra Dio e la creatura ed in questo alterco l'uno si sviscera nell'altro di puro amore ora tu devi sapere che quando mettiamo fuori alla luce del giorno la creatura noi le diamo la dote il corredo delle nostre particelle divine la dote è nostra volontà ne mettiamo un limite anzi le demono la libertà di aumentare la sua dote ora gli atti che fai nella nostra volontà sono nuove proprietà che acquisti oltre a quelle che ti ha dato il tuo creatore e noi nell'enfasi dell'amore ne diciamo quanti più atti farai nel nostro volere tanto più campo divino ti daremo per darti il posto dove mettere i tuoi atti così tu lavorerai nel nostro campo celeste e noi ti daremo quanto più campo vuoi basta che non lo tieni vuoto e sia attenta a metterlo in traffico anzi avremo il gran contento di vedere le tue proprietà più estese noi facciamo come un padre quando dà la sua dote al figlio questo figlio lavora si sacrifica tanto in modo che aumenta la sua dote estende di più le sue proprietà ed il padre gode più che se fossero le proprietà le fortuna del figlio così facciamo noi anzi di più quando la vediamo tutta attenzione pronta a qualunque sacrificio noi non la lasciamo sola ma lavoriamo insieme le prestiamo tutto ciò che occorre volontà, santità a ti nostri tutto per avere il contento di vedere posseditrice di molte proprietà la figlia nostra bene amici anche oggi cominciamo la nostra meditazione seguendo le tracce che il signore dà in questo scritto del 22 gennaio del 1983 e la prima parte di questa meditazione è abbastanza graziosa oserei dire quasi un po' ironica atta a suscitare qualche santo sorriso diciamo così perché comincia dicendo che dove lui dice a Gesù che non è buono a fare i conti proprio in due due parole poi si corregge dice non è che non è buono non è che non vuole fare bene i conti perché si chiede quello che credo più o meno spero anche perché tutti almeno qualche volta nella vita ci siamo chiesti diciamo signore mio ma tu sei il tutto tu sei l'immenso tu sei l'eterno tu sei perfettamente felice in te stesso non c'è bisogno di niente e di nessuno e questa è la pura verità ma io raccolgo tutto quello che tu mi doni resto stupito di tutto quanto l'interesse che hai per me per carità ma che ce fai? ecco lì si dice ma che ci fai tu con una volontà come la mia così debole e insignificante che sa produrre più male che bene attenzione ne siamo persuasi profondamente di questo io spero di sì anche qui mi piace ritornare a San Luigi Monforto quando spiegando la consacrazione dice che noi amici non siamo capaci da noi stessi di compiere nessuna opera utile alla salvezza noi possiamo metterci tutta la buona volontà di questo mondo possiamo fare le opere umanamente più belle più oneste più buone più apparentemente meritorie ma per esempio senza la grazia di Dio e tra l'altro senza una grossa purificazione delle nostre intenzioni quelle cose davanti a Dio valgono poco o addirittura niente quindi spero tanto questa è una delle prime cose perché questa è una caratteristica intrinseca e fondamentale di quella che in ascetica si chiama l'umiltà del cuore io spero che ci siamo arrivati tutti quanti e attenzione anche questa è una cosa da verificare davanti a Dio non davanti agli uomini perché davanti agli uomini siamo tutti bravi a dire che ah io sono un disastro uguale ah io sono un gran peccatore ah io non ne faccio una dritta sì con la sottile speranza da chi ti ascolta dice ma no scherzando sei tanto bravo sei tanto come non ne fai una dritta ne fai tante dritte dalla mattina alla sera quindi quando l'umiltà trova questo campo di applicazione questo non è un gran campo non è un buon campo di applicazione ahimè perché è un campo pericoloso perché è un campo dove l'umiltà può travestirsi in maniera laffinata da superbia ahimè mi atteggio da umile perché gli altri mi dicano che sono bravo bello santo eccetera eccetera e chiaramente così non ci siamo questa cosa va fatta davanti a Dio nel segreto ieri chi di noi è stata alla santa messa delle ceneri l'avrà sentito risuonare come una santa anemia come un martello nel segreto prega il padre tuo nel segreto la tua lemosina resti segreta il tuo digiuno resti segreto anzi fuori faresti bene a fare un po' l'attore quindi a caricare un pochino i gesti perché le persone non soltanto non si accorgano del digiuno ma non gli passa manco per stare per l'anticamera del cervello che tu stai digiunando perché si è dovuto bello con la faccia pulita unto con gli oli come si faceva nei tempi i capelli profumati quindi addirittura dare l'impressione quasi 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 ovviamente hanno realmente di di quasi scadere nella vanità di un eccessivo volto al tuo corpo tanto è importante che nessuno si accorge e questo perché Gesù lo spiega se se ne accorge qualcuno hai già ricevuto le tue ricompense credo che tante volte abbiamo avuto modo incontrando anche brani simili analoghi di evidenziare che la vita nella divina volontà è una vita in cui si vive H24 nella sua forma più matura ma quantomeno progressivamente in maniera sempre più frequente ed intensa alla presenza di Dio San Luigi Maria Monfort grande San Luigi Maria Monfort quando parla della Madonna quindi poi spiega l'importanza della consegnazione totus tus per diventare come lei fondamentalmente dice che lei se fosse dipeso da lei lei sarebbe sparita lei voleva che nemmeno il mondo sapesse che lei esistesse sparire da tutti per essere conosciuta da Dio solo proviamo a pensarci a questa cosa qui tu te la sentiresti mettili davanti al Signore chiunque tu sia qualunque sia il tuo stato di vita c'è il marito c'è la moglie c'è i figli se tu conoscessi con certezza ammettiamo che lo potessi fare che Dio vuole che tu molli tutto e ti avventuri in una vita da sola con il solo tu e lui e basta che pensi che faresti quanto della nostra giornata sono azioni confiute sotto gli occhi di Dio solo davanti a lui per piacere a lui per far contento lui per compiacere lui per amare lui quanto c'è è molto importante che nella meditazione noi ce lo chiediamo questa cosa qui perché come ho detto tante volte il rapporto che Gesù vuole avere con noi è il rapporto di amore reciproco do ut des ci da ma desidera ed è questo il punto perché lui si dice ma che ce fai con una volontà come la mia che non ne fa una dritta più male che bene e scherza dice ma Gesù non se ne intende di conti ci va a dare una volontà divina che è una bomba non ci sono espressioni per esprimere la volontà divina la bomba atomica la bomba nucleare io delle volte mi sento veramente che non ci sono vocaboli per esprimere cioè la potenza l'immensità la grandezza della volontà divina la sua santità assoluta l'amore assoluto che porta cioè non esistono credo parole almeno io non le trovo se qualcuno le trova mi faccio una mail per per poterla descrivere lodare adorare non c'è è per darci la vuole la nostra o in cambio la nostra mamma mia sarebbe come se uno cioè che ne so vendesse un jet privato un mio amico che fa il pilota di aeree una volta mi ha detto quanto costa un jet privato molto più di quanto pensassi io pensavo che un milione o due milioni di euro dovevo stare a Cavassi ma che scherza padre molto di più immagina che tu ti vai a comprare un jet privato e lo paghi due euro hanno comprati tutti io me lo compro se costa due euro poi non so se qualcuno si scandalizza che comprate un jet privato però poi gli dico guarda che l'ho comprata due euro quindi non ti scandalizzare ma questa immagine che è un'immagine che ogni tanto dobbiamo usare le immagini umane del resto lo faceva anche Gesù con le parabole adeguate alla mentalità del suo tempo purtroppo se mi metto a parlare adesso dei campi dei semi e di pecore non mi capisco nemmeno da solo perché io a volte faccio fatica facevo fatica a capire le parabole evangeliche perché io una pecore l'avrò vista quattro volte in tutta la vita si potresti dire a questo gelso io un gelso fino a qualche anno fa non l'avevo mai visto sapevo manco come era fatto non avevo riminiscenze da libri di biologia o un cetro del Libano nella saga scrittura chi l'ha mai visto un cetro del Libano cioè se si capisce quindi Gesù faceva chiaramente usava le immagini anche la saga scrittura le metafore le segnitudini adatte alla mentalità del tempo oggi si attapperà gli occhi il nostro signore cioè credo che si capisca insomma che cosa significa comprare un paio per due euro no? però non rende l'idea e ancora siamo molto al al di sotto forse magari un piper per due centesimi che uno farebbe magari pure fatica a trovare per un centesimo facciamo dai la monetina di rame è più piccola che esiste ti danno un piper eh bah io non so che cosa sta pensando il nostro signore adesso forse questa questa immagine molto lontanamente rende un po' la proporzione dello scambio no? ho un piper di quelli belli eh extra lusso quindi con dentro i sedini in pelle con con un pilota bravissimo quindi con tutti quanti i comfort le aree condizionate il frigo bar eh che ne so il bagno tutto 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 sciccoso ecco i tavolini che si aprono il frigo bar con tutti quanti le bevande col con whisky col cognac con 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 tutto tutto quello che vuoi d'accordo? immaginatelo come come te pare con tutti quanti i giocattoli i barocchi gli accessori che te pare più o meno abbiamo fatto un'immagine e lui si dice ma che non sai fare i conti insomma no perché perché la sproporzione è immensa e allora Gesù dice ma certo che non so fare i conti perché se mettesi a fare i conti qua abbiamo un bello che è finito non è che dice ma sì è la verità Gesù non fa conti perché se dovesse fare i conti io alla creatura non potrei dare mai nulla perché cioè dice voglio vedere cosa mi dà la creatura perché gli possa dare qualcosa ma che cosa ditiamo noi? ah adesso è cominciata la guarissima dice ho fatto un grande programma guarissimale faccio tanti digiuni faccio tante penitenze faccio tante preghiere figlio mio non te voglio smontare falle per carità l'ho fatto pure io il programma quindi facciamo tutti quanti ma che gli dai al Signore? pensaci bene dagli le cose che gli hai detto ma tu quelle cose gliele dai perché lui ti mette in condizione di darle perché se ti viene a mancare la salute tu il digiuno non lo puoi fare tanto per dirne una se ti viene a mancare la lucidità mentale ti viene la meningite beh non auguro a nessuno ma che preghi? capisci niente quando preghi non sai neanche focalizzare il fatto che cosa sia pregare no? cioè noi abbiamo ricevuto tutto quanto da Dio l'essere la conservazione nell'essere tutte quante le grazie i doni tutto quindi già stiamo con un debito stratosferico semplicemente rimanendo sul piano della creazione e ancora di più se ci aggiungiamo la vita della grazia ordinaria ma quindi che cosa diamo al Signore? di nostro? niente c'è sta soltanto una piccola cosa che è nostra solo una ed è quella che lui cerca perché quella pur dipendendo certamente dall'atto creativo del Signore e dal fatto che lui mi ha creato come essere umano non come animale io sono una volontà libera è l'unica cosa diciamo così che o rimanendo dentro la dipendenza dall'atto creativo di Dio per cui niente è strettamente parlando nostro però la volontà quella è mia perché io posso fare questo posso fare quest'altro posso fare quest'altro ancora avendo come dire entro certi limiti un pieno dominio certo se se metti in testa voglio andare a farmi un giro su Marte alla velocità della luce questo te lo scorgi non è alla portata della tua volontà ma voglio andarmi a fare una passeggiata al mare sì puoi farlo voglio andare al cinema sì puoi farlo voglio andare a teatro sì puoi farlo voglio andare a mangiare una pizza sì puoi farlo voglio andare in chiesa sì puoi farlo voglio uscire con un amico sì puoi farlo quindi la nostra volontà tutti quanti sappiamo che debone è significante specialmente quando quando ci parla di orientarle verso le opere buone verso le opere sante tutti facciamo esperienza come San Paolo scrive una lettera dei romani che tante volte vorremmo fare tanto bene e poi all'atto pratico facciamo esattamente il contrario di quello che avremmo tanto desiderato dice che brutta situazione non faccio il bene che voglio ma faccio il male che non voglio chi mi libererà San Paolo capitolo 8 delle lettere romani spero dice Gesù mettiamoci un punto io questa volontà la voglio ah io la voglio perché tu mi dividerai la mia perché due volontà dentro una persona non ci possono stare due distinte ce ne deve essere una è chiaro anche questa l'immagine attenzione a tenderla bene non è che la nostra volontà umana non c'è più ma si realizza come sappiamo dagli scritti quella che si chiama la fusione quindi la fusione se io prendo due anelli e voglio farne uno solo quei due anelli vanno dentro lo strumento dove si effettua la fusione come due entità separate io voglio fonderli e fare un anello nuovo dove c'è però la sostanza di entrambi gli anelli ma ce n'è uno solo che è un uomo questa è un'altra immagine che a mio avviso rende un pochino la fusione questo che si parla di fusione la fusione nella divina volontà che sarà fondersi capiamo no significa non è che la sostanza di ciò che è stato fuso si perde no ma si si fonde forma una lega forma una cosa sola con ciò con cui si fonde questo è una cosa grossa è una cosa piccola per poter dare aggiunge Gesù io voglio il piccolo l'insignificante il nostro piccolo è il nostro tutto Gesù vuole tutto da noi ma noi non ci abbiamo quasi niente ci fa niente mi ha dato il piccolo quello ci aveva noi mica siamo come lui mica possiamo dare a lui quello che a competere con quello che c'ha lui no io mica gli posso donare le nebulose al nostro signore o o gli asteroidi o gli spazi astrali se non avessi visto qualche documentario non saprei neanche che esistano queste cose qui se avessi letto se non hai studiato qualche libro di astronomia no gli posso dare quel poco che c'ho e quello Gesù lo vuole ed ecco quello che fa i miracoli bellissimo con l'espressione non ti perdo mai di vista guardate che Dio veramente non ci perde mai di vista noi non ci pensiamo ma Dio non ci perde mai di vista mai e perché non ci perde mai di vista perché desidererebbe vedere anche noi quelle scene commoventi così le chiama del nulla nel tutto del piccolo tuo essere nel grande con la G maiuscola del finito nell'infinito con la I maiuscola per non alternarsi a vicenda fra Dio e le creature in questo alterco l'uno si sviscera attenzione nell'altro di puro amore quindi vediamo che qui Gesù come sovente fa cambia l'ordine dei fattori cambia le immagini cambia le similitudini ma alla fine se lo va sempre a parà così dicono a Roma e pure a Napoli e va sempre a parà nella stessa direzione perché tutto il discorso para nella reciprocità del rapporto d'amore tra Dio e la creatura Gesù cerca un alter ego una persona che accolga e ricambi l'amore che lui ha e la quinta essenza della vita nella divina volontà consiste in questo movimento di accoglienza di ricambio dell'amore infinito che Gesù ha per noi nella conclusione Gesù afferma applica diciamo così alla Dina volontà un principio ascetico fondamentale questo dobbiamo impararlo no? come si cresce nella santità voglio diventare più santo che devo fare? una cosa molto facile devi fare ogni giorno dei nuovi atti delle varie virtù cristiane atti di carità atti di speranza atti di fede atti di di penitenza di di umiltà di temperanza di sobrietà di prudenza di giustizia verso Dio verso te stesso verso il prossimo più ne fai e più il santo diventi il santo è un è uno che continuamente cresce in grazia in santità perché compie gli atti delle virtù cristiane tutto qua non è che ci sta e come cresce la presenza e la percezione della vita della divina volontà in noi in quanti maggiori sono gli atti che si fanno nella divina volontà questo è un principio ascetico generale Gesù dice quanti più atti farai nel nostro volere sto citando tanto più campo divino ti daremo per darti il posto dove mettere i tuoi atti così tu lavorerai nel nostro campo celeste dice questo figlio si sacrifica tanto lavora aumenta la sua dote e il padre gode perché è un figlio che opera in questo modo gli darà grandi cose Gesù spiega ad una persona che fa questo quando la vediamo con tutta attenzione pronta a qualunque sacrificio c'è la bellissima canzone di Debo Ravezzani no? Irvi a costo di qualunque sacrificio ce lo siamo detti infinite volte qualunque cosa qualunque cosa io se posso dare un consiglio fatelo spesso l'esercizio del qualunque cosa ti metti davanti al signore comincia a pensare alle cose che dici mamma mia se il signore mi chiedesse questa cosa sarebbe un problema ecco tu ci pensi è proprio quella cosa che sarebbe un problema gli dice il signore bene signore se tu questa me la chiedi se io conoscessi con certezza che tu questa me la chiedi io ti dico Fiat fin da ora se non te lo dico che scherzo e se poi me la chiedi sul serio Fiat rimane Fiat prova a fare questo dopo vedrai che succede è un figlio che lavora tanto si sacrifica tanto sacrifica tanto e quindi che succede se fai questo tolmice Gesù ah se qualcuno fa questo noi non la lasciamo sola lavoriamo insieme e le prestiamo tutto ciò che le occorre volontà santità atti nostri tutto come diceva il cardinal Petrocchio un antico monaco del deserto diceva o conosceva la divina volontà questa frase se tu fai la volontà di Dio Dio farà la tua ce l'ha detto Gesù nei giorni scorsi se dovrai sentire le meditazioni tu mettiti in queste condizioni reali dopodiché Dio fa tutto quello che vuoi tu accontente a seconda tutti quanti i tuoi sani buoni e belli desideri prova fino a lasciarti a bocca aperta dire ma è possibile che accontenti anche questo desiderio che mi sembra così feriale così materiale a volte terreno prova di coincidenze o meglio coincidenze forse eh ma quando uno comincia ad averne una rassegna non indifferente di cose di questo genere parlare ancora di coincidenze o fare finta di non vederle sarebbe un insulto all'umana intelligenza noi sappiamo bene che l'umana intelligenza non deve essere mai insultata deve essere adoperata non insultata eccomi meditiamo con attenzione a queste belle cose a queste belle cose a queste belle cose Grazie a tutti. Grazie anche oggi Signore Gesù di tutto quello che ci dice e che ci racconti e che ci spieghi. Oggi ci hai fatto vedere quanto brami e quanto ami l'offerta della nostra pur piccola e insignificante volontà. Piccola e insignificante ma l'unica cosa che realmente abbiamo visto è nostra. Il principio del nostro autodeterminarci e quindi della nostra sosta temporale ed eterna. Questo è un ottimo tempo in cui rinnovarti il dono perfetto della nostra volontà e il nostro dire in anticipo fiat da tutto ciò che tu disporrai per noi e nella nostra esistenza. Nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria